Le telco sono chiamate ad una grossa sfida che è quella di portare il Paese Italia in una nuova generazione digitale. Pertanto serviranno degli ingenti stanziamenti, ingenti finanziamenti e questo porterà a un'infrastruttura digitale molto più veloce. In questo contesto delle società come Horus Informatica, che è un distributore che a noi piace definire diseguale, può fare la propria parte nel senso che può esportare un processo e un modello sostenibile alle telco in maniera tale per l'introduzione di nuove tecnologie di sicurezza innovative. Pertanto anche distributori e vendor possono fare la propria parte per concorrere unitamente alle telco a questa nuova rivoluzione digitale.